Terrore in tutta la Lombardia, da Varese a Bergamo, a Milano, due boati causati da caccia militari decollati da Cameri in Novara che sorvolando Bergamo hanno superato la barriera del suono in mattinata. Un boom sonico ha messo in allarme l'intera provincia di Monza e della Brianza. I due boati sono stati uditi distintamente anche nelle province di Como, Milano, Bergamo, Brescia, Biella e vicine. Dalle prime ipotesi sembrerebbe che la causa sia riconducibile a due caccia militari che avrebbero rotto il muro del suono. Paura a Monza dove la gente è uscita in strada e alcune scuole hanno fatto uscire gli alunni. Il rumore, simile ad esplosioni, ha fatto tremare i vetri delle case e uscire la gente per strada, in particolare a Bergamo, in via precauzionale, sono state evacuate alcune scuole e il tribunale. I centralini dei vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine sono stati presi letteralmente d'assalto.